Io mi impegno a usare a marzo, se scegliete la Lega, quei barconi e quegli aerei da riempire e da riportare in Africa da dove questa gente è arrivata. Colpo di telefono, guardia costiera, maniera militare. Ragazzi, da oggi con il governo Salvini si salva tutti, si soccorre tutti, uomini, donne e bambini, ma non ne sbarca più uno. Li riporti indietro, non ne sbarca più uno. Bruxelles si lamenta, me ne frego di Bruxelles. E nella sede di questa banca noi ci vogliamo entrare a testa alta, chiedendo che chi ha sbagliato paghi e chi è stato truffato venga risarcito con soldi che, ripeto, ci sono. Tema banca, qual è il primo intervento che farebbe una volta il governo? Innanzitutto andare a Bruxelles e dire la direttiva sulle banche che ha massacrato milioni di risparmiatori per noi non esiste. Qua va al di là delle regole europee, è una direttiva sbagliata perché per la prima volta nella storia hanno pagato i risparmiatori. Rischiano di pagare anche i correntisti con le nuove normative europee, quindi è una delle scelte dell'Europa che noi vogliamo cambiare, insieme a quelle sull'immigrazione, insieme alla direttiva Bolkens. Bisogna cambiare le regole, altrimenti ci guadagnano altri e ci perdiamo noi.